Primo marzo 2014, questo è il penetrometro dinamico, abbiamo già terminato la prova e la stratigrafia presenta i primi 3-4 metri di sabbie poco addensate e poi un passaggio a delle sabbie limose sottostanti, più consistenti. La posizione è, qui ci troviamo a Tagliata in comune di Guastalla, siamo quindi a ridosso dell'argine del fiume Po ed è quindi normale trovare una stratigrafia dove c'è una prevalenza di sabbia. La giornata è abbastanza fredda e sta piovendo. Precedentemente ho fatto la prova sismica e adesso estrarrò le aste che sono state infisse sino a circa 10 metri di profondità e verificherò anche la profondità della falda acquifera direttamente nel foro della prova penetrometrica. Qui verrà realizzato un nuovo capannone.